Ben ritrovati qui su Le Fonti TV, un saluto a tutti i telespettatori della rassegna stampa di Le Fonti Legal TV che ringrazio in quanto siete sempre più numerosi a seguire con costanza e assiduità questo appuntamento ormai periodico che si propone di effettuare una veloce rassegna dell'omonima rivista Legal che come già saprete potete trovare ogni mese in edicola nel tradizionale formato cartaceo oppure online nel formato digitale. Prima di procedere come di consueto con un'analisi di quelli che sono gli articoli più salienti della rivista e andare insieme a dare uno sguardo alla copertina, vi voglio annunciare che la prossima puntata avremo qui con noi in studio un importante ospite, il nuovo vice direttore della rivista Legal, Gabriele Ventura, il quale ci racconterà quelle che saranno le più importanti novità che riguarderanno la rivista in parte già attuate già a partire da questo numero di dicembre del 2018 per poi le restanti si attueranno invece nei prossimi mesi del 2019 Andiamo a vedere insieme come di consueto la copertina del numero di dicembre del 2018 quindi questo ultimo numero di chiusura dell'anno, una copertina dinamica, differente rispetto alle altre dove sono presenti diversi volti, quelli che sono stati o meglio i volti di coloro che sono stati i principali protagonisti del 2018 del mercato legale Andiamo a leggere invece il sommario, a pagina 4 come di consueto troviamo il sommario andiamo a vedere quali sono le sezioni di cui si compone la rivista Legal Iniziamo con la prima sezione, mondo legale e una sezione nuova che è stata introdotta dalla redazione Legal guidata da Gabriele Ventura e una nuova sezione introduttiva che troverete a partire dal numero di dicembre per poi procedere con le altre sezioni classiche che già conoscete ovvero protagonisti, attualità, giustizia e professioni, fisco, finanza, imprese e lavoro e infine per concludere la rivista si chiude con una nuova sezione, innovazione e marketing anche questa è una nuova sezione che è stata introdotta dalla nostra redazione ce ne parlerà meglio poi Gabriele Ventura nel prossimo punto Andando ad sfogliare la rivista in questa puntata ci soffermeremo soprattutto nella sezione protagonista in particolar modo nel primo articolo, l'articolo di apertura della sezione protagonisti in quanto è un articolo o meglio un dossier di approfondimento a cui è stato dedicato proprio la copertina che abbiamo appena visto si tratta infatti del dossier che riassume quello che è l'andamento del mercato legale durante tutto il 2018 Andiamo a vedere quindi quali sono stati gli studi legali che hanno conseguito i maggiori affari in tutto l'anno iniziando proprio a dare una lettura di quello che è il titolo dell'articolo Un anno di mercato legale, tutti gli affari del 2018 Le fonti legal passa in rassegna le principali operazioni chiuse negli ultimi 12 mesi e i cambi di poltrona che hanno modificato gli equilibri del settore Bene, come anticipato poco fa quindi andiamo a vedere quindi in base a tutta una serie di analisi che sono state fatte dalla nostra redazione con il supporto del centro studi legal quelle che sono del centro studi Le fonti quelli che sono stati gli studi legali che nell'arco del 2018 hanno brillato maggiormente La redazione legal infatti in collaborazione con il centro studi Le fonti si è selezionato per valore e importanza oltre 100 operazioni comunicate nel corso del 2018 da parte degli studi legali I primi 10 studi legali che hanno brillato maggiormente nel 2018 dunque sono Bonelli e Reda che copre il 17% del mercato complessivo quindi le cui operazioni comunicate nell'arco di tutto il 2018 nei vari comparti del mercato costituiscono, hanno un controvalore che può essere quantificato pari al 17% del mercato A seguire abbiamo Clifford con il 12,20% poi abbiamo Letham con il 10,6% In quarta posizione invece si trova Gianni Origoni seguito da Ale Noveri rispettivamente con il 10,30% e il 9,10% In sesta posizione invece troviamo un altro importante studio Dentons che guadagna il 5,20% ricordiamo che è la somma di tutte le operazioni che sono state comunicate da parte di questi grandi studi nel corso del 2018 In settima posizione invece segue Legans con il 4,6% a seguire chi aumenti con il 4% e in coda invece abbiamo Freshfield con il 3,7% e lo studio RCC con il 3,2% che chiude questa classifica dei 10 studi legali più importanti che hanno effettuato le maggiori operazioni in termini di importanza in termini di controvalore e anche considerando anche la numerosità delle operazioni e l'importanza del cliente seguito Tra i maggiori deal del 2018 infatti citiamo giusto per citarne alcuni nel banking abbiamo il portafoglio di NPL originati da Monte dei Paschi di Siena a seguire la fusione record di Atlantia Avertis da 16,5 miliardi e la fusione di Essilor Luxottica che è iniziata a gennaio del 2017 e darà vita a un nuovo gruppo italo-francese con 16 milioni di euro di fatturato queste sono alcune ovviamente delle operazioni delle tante operazioni che sono state concluse da parte di tutti questi studi legali di appena citati e che potete trovare nella descrizione in maniera molto più dettagliata proprio nella rivista Legal del numero di dicembre dove troverete naturalmente i vari dettagli dei dettagli delle principali operazioni del 2018 mese per mese Andiamo infine anche al secondo grafico quello relativo invece ai settori che maggiormente hanno consentito agli studi legali di realizzare un importante ritorno economico in testa alla classifica che il grafico mostra appunto quello che vedete in sovraimpressione gli studi, i settori, perdonatemi in cui si sono realizzate le maggiori operazioni nel 2018 selezionate e ponderate dal centro studi Le Fonti nel 2018 gli studi infatti hanno fatto il pieno di affari proprio nel Banking & Finance il Banking & Finance infatti è stato il settore in cui sono state registrate le maggiori operazioni ben oltre il 40% come possiamo vedere dal grafico a seguire abbiamo anche Capital Markets le cui operazioni ammontano complessivamente al 21,5% in terza posizione invece il settore in cui gli studi legali hanno realizzato un'importante operazione riguardo il settore delle operazioni straordinarie M&A con un 18,3% a seguire si posiziona in quarta in classifica invece il settore Energy che comunque con un netto distacco rispetto agli altri tre mercati infatti il settore energetico chiude consente agli studi di fatturare complessivamente un 5,8% rispetto al fatturato complessivo che dichiarano mediamente con le loro operazioni in quinta posizione invece abbiamo il restructuring con 4,3% in sesta il contenzioso è a seguire il private equity con rispettivamente il 3,9% e il 3,4% infine chiudono la classifica il segmento il settore societario, quello del real estate rispettivamente a pari merito con un 2,6% questi sono i settori, i principali settori insomma con la percentuale di mercato che le fonti, la classifica che sono state inserite nella nostra classifica da parte proprio del centro studio e della redazione legal sulla base appunto di tutte quelle operazioni che sono state dichiarate da parte dei principali studi legali durante tutto il 2018 io ovviamente vi ringrazio per averci seguito e vi lascio con la programmazione proprio qui su Le Fonti TV restate qui con noi